Una ricetta elegante che esalta la vivacità del spinaci. Prima di tutto, raccogli spinaci freschi, ricotta, parmigiano, aglio e erba cipollina. In una padella, rosola l'aglio e aggiungi gli spinaci, cuocendo fino a farli appassire. Mescola la ricotta con il parmigiano grattugiato per formare un ripieno cremoso. Stendi gli spinaci, aggiungi il ripieno di ricotta e forma degli involtini. Legare gli involtini con erba cipollina per un tocco elegante e servire. Grazie per la visione!